Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Spesso la gente mi dice, eh ma devi far vedere gli imprevisti del viaggio. Certo, esistono degli imprevisti, come quello che è successo oggi. Cioè, ha piovuto nel camper, perché due anni fa in Cappadocia è volato via l'oblò superiore e l'abbiamo riparato con del nastro americano. Sto ripetendo l'operazione con un po' di nastro americano e si sistema tutto. Anzi, se sapete qualcuno che ha un camper come il Vostok, che magari lo vuole rottamare e vuole dar via un oblò superiore, ci fareste un favore sicuramente, perché tanto alla fine non c'è niente che non si possa riparare. Il Vostok resta un grandissimo pezzo di acceio tedesco, ma va avanti sempre con la fantasia italiana. Intanto, continuo a sistemare l'oblò e mi godo il panorama della campagna siciliana. Sempre avanti, Vostok 100k social trip, oggi il Vostok che è diretto a noto, ci arriverà. Boh, se non piove è meglio. A presto.